carissimi benvenuti in questo nuovo appuntamento di questo mese sulle ferrovie visto il successo del primo episodio ho deciso di replicare con un secondo e dunque di continuare con la serie andiamo dunque a fare una carrellata di tutte le notizie ferroviarie del mese di febbraio in italia ma anche in alcuni casi dall'estero ed è proprio dall'estero che cominciamo il 3 febbraio un treno della norfolk southern è deragliato a east palestine sul confine tra ohio e pensilvania 50 carri in totale sono deragliati molti erano cisterne che trasportavano materiali pericolosi e infiammabili tra cui il già citato in tutti i notiziari il cloruro di vinile ma anche svariati acridicati e residui di benzene l'incidente che non ha provocato per fortuna vittime ha provocato però un disastro ambientale immenso e ha sollevato polemiche circa la gestione del traffico merci negli stati uniti gestito dalle quattro grandi compagnie americane come norfolk southern e csx sull'height coast e bnsf e union pacific nel midwest e nella west coast oggetto di critiche anche il precision scheduling railroad una politica lavorativa con la quale per minimizzare i costi vengono agganciati svariatissimi carri di ogni genere andando dunque a creare quei convogli lunghissimi caratteristici delle ferrovie americane questa politica come ho detto prima consente di ridurre i costi e anche il personale al costo però di un servizio poco affidabile con manutenzione scarsa e elevati problemi di sicurezza che in caso di deragliamenti portano a disastri come quello di east palestine ma anche molti altri anche l'infrastruttura di terra non è proprio messa benissimo nelle ferrovie americane da menzionare anche il fatto che ogni compagnia ferroviaria ha sviluppato o in alcuni casi ereditato diversi tipologie di segnalamento se volete degli approfondimenti vi lascio in descrizione dei video di alan fisher che parla appunto della questione delle ferrovie del sistema di trasporto merci americano sempre lo stesso giorno a via reggio in toscana è avvenuto un principio di incendio su un carro cisterna a carico di gpl nonostante la prontezza di macchinisti e vigili del fuoco che hanno scongiurato il peggio in paese è tornato il panico perché vivo tra gli abitanti è il ricordo dell'incidente ferroviario avvenuto nel 2009 che sempre ha coinvolto un carro cisterna pieno di gpl tuttavia il problema questa volta non risiede in un problema all'assale ferroviario come avvenuto nel 2009 ma una tipologia di freno che è già oggetto di polemiche in tutta Europa con le normative europee che impongono una riduzione del rumore proveniente dai freni dei treni è stata imposta una sostituzione delle classiche suole in ghisa con altre in materiale composito e le compagnie ferroviarie europee hanno deciso di adottare la tipologia LL si poteva optare anche per una tipologia K ma quella richiedeva degli interventi troppo invasivi all'impianto frenante di ogni singolo carro ma avendo un coefficiente di attrito più elevato queste nuove suole generano di conseguenza un'enorme quantità di calore che può tradursi in un surriscaldamento un evento simile a quello accaduto a Viareggio il 3 febbraio era già accaduto tempo fa anche in maniera più grave in Olanda quindi la questione di queste suole non è una cosa nuova ed è già al vaglio della lente di ingrandimento dell'Unione Europea il 6 febbraio ricorre l'anniversario dell'incidente di Livraga il 6 febbraio di tre anni fa infatti il Frecciarossa 95-95 al primo mattino è deragliato all'altezza del posto di movimento di Livraga in provincia di Lodi sulla linea a alta velocità Milano-Bologna ad una velocità di quasi 300 km all'ora morirono i due macchinisti a bordo Giuseppe Cicciu e Mario Di Cuonzo e 31 tra i passeggeri a bordo rimasero feriti la causa del disastro venne poi attribuita a un deviatoio che collega i binari di corsa ai binari di ricovero per i mezzi RFI in particolare un cablaggio errato durante la manutenzione della sera precedente ha fatto credere ai sistemi di segnalamento che il deviatoio fosse in posizione di corretto tracciato quando in realtà era in posizione di deviata Per 14 degli indagati tra i vertici di RFI e Alstom è stato chiesto rinvio a giudizio la cui udienza si terrà il 25 maggio 2023 questi dovranno rispondere dei reati di disastro ferroviario colposo, omicidio colposo e lesioni plurime colpose il treno incidentato invece, l'ETR 400 numero 21 ancora oggi risulta accantonato allo stabilimento Itachi Rail di Pistoia con l'elemento di testa che è andato contro il muro invece demolito direttamente al posto di movimento durante l'estrazione L'8 febbraio viene confermata l'apertura del tratto San Babila-Dateo della M4 a Milano fissata entro il 30 giugno lo ha detto il primo cittadino di Milano, Giuseppe Sala in visita al viaggio di prova tra Dateo e San Babila La data non è ancora definitiva ma tutti gli sforzi sono incentrati comunque nell'apertura della intera linea entro il 2026 in tempo per le Olimpiadi rimangono incerte però le tempistiche per la costruzione e inaugurazione dell'estensione orientale da Linate alla stazione di Segrate confermata intermedia all'Idroscalo Il giorno 13 viene rilasciato il resoconto del sondaggio viennale dell'azienda italo-elvetica Tilo ricordiamo partecipata sia da Trenord che dall'FFS L'indagine si è svolta nell'ottobre 2022 e ha coinvolto quasi 3.400 intervistati Nel complesso 8 persone su 10 si dichiarano soddisfatte o molto soddisfatte del servizio offerto Viene apprezzata la deviazione dei collegamenti S10 e S50 attraverso la nuova galleria di base del Monte Ceneri che ha consentito di accorciare ulteriormente le percorrenze istituendo invece una linea lenta S90 sulla linea storica Viene apprezzata solamente da 6 persone su 10 invece la disponibilità dei posti a bordo Viene però criticata la scarsa disponibilità di posti a sedere nelle relazioni da e per Como e anche quelle verso Milano Centrale Questo tipo di indagine è un ottimo strumento per l'azienda di capire la qualità del servizio offerto Secondo me dovrebbe farlo anche Trenord così capirà perché viene così tanto bersagliata anche se alle volte non è colpa di Trenord ma di RFI Il giorno 16 viene poi presentato il piano di canterizzazione della linea rossa del tram di Bologna La città emiliana ha in mente infatti di realizzare una rete tramviaria composta nei progetti iniziali da 4 linee di cui la linea rossa costituisce la prima fase La costruzione si divide in 7 grandi cantieri di cui uno riservato alla costruzione di opere complementari e prevede la realizzazione di un percorso di circa 17 km con ben 34 fermate in direzione est-ovest collegando il Terminal della Fiera a Michelino e il campus di Agraria del Centro Agroalimentare di Bologna passando anche per la stazione centrale Un progetto sostenuto anche da Lega Ambiente ma mal visto da alcuni comitati cittadini che chiedono invece di investire nella mobilità alternativa come biciclette e monopattine elettrici Il giorno 17 RFI affida a ICM la progettazione esecutiva e la realizzazione della nuova linea ferroviaria Ferrandina Matera Si tratterà, una volta completata, di una ferrovia di 20 km elettrificata a binario singolo e a scartamento standard che consentirà di collegare Matera alla rete ferroviaria nazionale Ricordiamo che la costruzione di questa ferrovia era già stata avviata negli anni 80 ma poi la costruzione è stata interrotta I lavori, nuovi, che dovrebbero concludersi salvo intoppi nel 2026 prevede anche la costruzione di una bretella che consentirà ai treni provenienti da Potenza di evitare il cambio di banco e cambio di direzione a Ferrandina Dal mio punto di vista, però, questa linea ferroviaria presenta un problema molto grave La stazione terminale della ferrovia, infatti, Matera-la-Martella si trova in un punto completamente separato dal centro città anzi, si trova in aperta campagna A meno che il comune di Matera o altri enti del trasporto pubblico non provvedano a istituire un collegamento tra la stazione RFI e il centro storico e, eventualmente, le stazioni delle ferrovie Apollo-Lucane dalla ferrovia Bari-Matera questa stazione risulterebbe raggiungibile solamente con l'automobile un bello schiaffo, insomma, al concetto di mobilità sostenibile Il 18 febbraio si conclude il viaggio che sancisce il ritorno dell'Intercity Notte Roma Termini in Nijen, San Candido Dopo ben 13 anni di assenza, è possibile raggiungere la capitale dalla Val Pusteria in modo diretto e viceversa Tuttavia, il ritorno è stato caratterizzato dall'assenza del trasporto di auto a seguito un servizio che in Italia è stato completamente smantellato per via della sua inefficienza Addirittura l'Euronite Livorno-Vienna, anche a causa del Covid si è visto privato di questo servizio Anche qui un bello schiaffo alla mobilità sostenibile visto che la vera soluzione non è l'auto elettrica o ibrida ma usare meno l'auto Nel resto d'Europa, invece, questo servizio è sopravvissuto in alcune parti in maniera evidente come nei paesi germanofoni e in altri un po' meno La soluzione è guardare gli altri e imparare non, come facciamo noi italiani, guardare e menarsi i maroni alla Tafazzi E chi lo sa, magari rivedremo un servizio di autoseguito su questo Intercity Notte, in un futuro che grazie anche alla variante in Val di Riga si spera possa essere completata nel 2026 eviterà l'inversione di marcia e il cambio banco a Franzensfest Portezza Dalla Val Pusteria alla Val Brembana, quasi perché il comitato raddoppio sì ma non così e il primo cittadino di Curno il 20 febbraio presenta ufficialmente ricorso al TAR contro il progetto del raddoppio ferroviario tra Ponte San Pietro e Montello in particolare viene contestato l'attuale progetto di raddoppio che nel comune di Curno prevede la soppressione dei passeggi livello tra cui quello di Via Roma e l'innanzamento di barriere fonoassorbenti viene chiesto invece l'istituzione di un servizio metropolitano leggero prendendo come spunto il servizio ferroviario suburbano di Milano e l'istituzione di fermate vicino ai centri abitati sia di Curno che del vicino comune di Mozzo il comitato fa presente così che il progetto presentato andrebbe a distruggere la viabilità che nell'area a ovest di Bergamo è penosa e ve lo posso assicurare io che abito vicino a quelle zone lì la viabilità è penosa di fatto si andrebbe a realizzare una separazione del traffico ferroviario da quello stradale ma di stampo pesante che andrebbe a beneficio soltanto dei collegamenti rapidi tra Milano e Bergamo e non andrebbe a istituire un servizio suburbano a servizio dei comuni che sono attraversati il primo cittadino di Curno Andrea Sacconia si dice comunque disposto a ritirare il ricorso qualora si intraveressero degli spiragli di trattativa e modifiche di progetto e per concludere il video il mese di febbraio ha visto due treni cambiare o cessare attività parliamo innanzitutto delle ALE 724 dopo poco più di 40 anni di onorato servizio gli ultimi esemplari in servizio sulla linea 2 di Napoli sono stati definitivamente accantonati inizialmente avrebbero dovuto essere mantenuti come rotabili di riserva in caso di guasti improvvisi ai pop che li stanno sostituendo ma anche quest'ultimi sono stati trasportati allo scalo di Maddaloni Marcianise in attesa di demolizione non si esclude però che alcuni di questi esemplari possano diventare in qualche modo dei rotabili storici l'altro treno invece è l'ETR 600 numero 6 che ufficialmente dopo lo smantellamento del segmento freccia argento sto diventando un rapper con tutto questo ento 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 ha visto anche lui privarsi della livrea freccia argento sostituita con la livrea freccia rossa adesso mancano all'appello soltanto gli ETR 610 che non sono ancora stati ripellicolati nella nuova livrea freccia rossa ma almeno non girano più coi loghi freccia argento bene queste erano le notizie del questo mese sulle ferrovie di febbraio mi scuso ancora per il ritardo accumulato nella pubblicazione di questo video addirittura dovevano esserci alcune parti che però ho deciso di tagliare per sveltire la pubblicazione e quello il prossimo di marzo spero sia un po' più ricco e anche un po' più dettagliato vi ringrazio ancora io sono Loreil Pedra e ci vediamo alla prossima grazie a tutti